Buonasera amici sportivi, tifosi rossoneri, tifosi della Lucchese, anche questa sera in perfetto orario per la sesta puntata stagionale del ciclo 2022-2023 di Curvo Ovest, dodicesimo anno che il sottoscritto conduce la trasmissione in compagnia del personaggio che fra poco vi annuncerò che anche stasera è qui con noi. Prima di lui però è doveroso presentare alla seconda stagione con la maglia della Lucchese, ma la prima volta, ne parlavamo proprio pochi secondi fa, a Curvo Ovest il difensore della Lucchese Matteo Bacchini. Buonasera Matteo. Buonasera a tutti. Adesso ti dobbiamo tirare le orecchie per capire come l'anno scorso non sei mai venuto. Sai chi c'è accanto a te? Conosci il personaggio? Sì, sì, di fama. Di fama, di fama. Addirittura. È l'opinion leader. Buonasera Giulio. Buonasera, buonasera a tutti. Sai che siamo alla dodicesima stagione, tu sei l'uomo dei numeri e non mi hai fatto il calcolo che noi in questa stagione, poi ti dirò quando, con una media di circa 40 puntate a trasmissione, andremo a toccare la cifra? Di 400 puntate. No, eh no, sono 12 anni di più. Sì, vabbè, era qualche puntata forse da qualche anno, sono un po' meno di 40, dai. Sono tante, sono tante. 360 1038 330, lo vedete il numero in basso a sinistra dei vostri teleschermi, sono già arrivati diversi messaggi, parleremo di tanti argomenti. Questa sera vogliamo tornare, ci hanno sollecitato, mi hanno chiamato in redazione, vogliono sapere qualcosa della vicenda stadio. Io vi posso già anticipare che dovrebbe esserci un incontro a fine mese, come ci ha confermato il presidente Vichi, per cercare di capire se veramente i tempi saranno rispettati e se questo progetto del nuovo stadio Porta Elisa di Lucca potrà andare in porto, perché poi, caro Matteo Bacchini, tu che arrivi da Santa Maria Monte? Esatto. Ma sei del paese dove abita il mister? Sì, lì vicino. Cioè lui abita lì, ma tu sei di lì invece? Sì, sì, io ho nato a Ponte d'Era, però ho sempre abitato lì. Sempre lì. No, perché sai benissimo Matteo che poi dalla vicenda, l'hai sentito parlare anche anno scorso, non so adesso se allo stadio c'è sempre il plastico, penso di sì, dalla vicenda stadio dipende un po' il futuro, credo, del calcio a Lucca, no? Sicuramente, sicuramente. Sì, sì, sì. Senti, facciamo una cosa, vediamo subito, perché poi avevamo detto che avremo stasera, insomma, parlato di due partite, perché nel frattempo la Lucchese alla fine ha giocato due partite intere, considerando che a Fiorenzola ci sono stati i supplementari, ma in base ai numeri, Lucchese che ha superato il turno, che adesso il 2 novembre incontrerà l'Olbia qui a Lucca, i numeri sono quelli del campionato anche, della settima giornata che adesso vediamo, dove in pratica c'è stato questo 0-0 casalingo con la torres, forse ci si aspettava sicuramente qualcosa di più dalla Lucchese, ma sappiamo che questo è un campionato che al di là di tutto, Matteo possiamo vedere anche la classifica, perché ne lo dicevamo prima Matteo Pachini, mi pare che si stia un po' faticando a trovare un punto di riferimento, una squadra leader, di dire quella è la squadra da battere, quella perché finora abbiamo parlato delle solite squadre, in realtà finora stanno tutte un pochino a modo loro, chi più chi meno, faticando e non si stanno confermando a pieno, non so come la vedi, voi siete a 11, una posizione che francamente in casa Lucchese negli ultimi anni poche volte si era vista così, a parte quel campionato di Serie D. No, sicuramente non c'è la squadra a mazza campionato come poteva essere il Modena o la Reggiana l'anno scorso, perché ci sono stati risultati un po' strani direi, come la Reggiana che perde a Fiorenzuola, o il Montevarchi che vince con l'Ancona e con la Carrarese, che erano squadre all'inizio campionato accreditate come pestare lassù e quindi è un campionato che si conferma difficile sotto ogni punto di vista, ogni squadra, delle incognite, diciamo non c'è una partita facile, fate anche il pareggio con la Torres, magari ovviamente noi volevamo vincere, perché sulla carta siamo più forti della Torres a livello anche di singoli, di collettivi. Non avete vissuto una domenica molto brillante? No, perché loro sono stati bravi, ci hanno imbrigliato, hanno saputo come mettersi in campo in modo tale che noi trovassimo delle difficoltà e anche se alla fine dell'occasione più importante della partita l'abbiamo avuta noi, siamo stati sfortunati perché la traversa è stato un episodio negativo che per poco se entrava, ora eravamo a festeggiare, eravamo in una posizione ancora più in alto, però siamo contenti del campionato che stiamo facendo e dobbiamo continuare a fare meglio ancora. Mi vorrebbe da chiedere se la traversa toglie il palo d'A, perché ieri poi a Fiorenzola nella partita di Coppa Italia, di cui adesso Matteo Pedini ci proporà anche qualche immagine, siete tornati là, tra l'altro una settimana dopo tutto quello che era successo e che ti ha visto involontariamente anche protagonista e la partita in realtà poi è ricominciata dal ventunesimo del primo tempo, dove era rimasta, però poi alla fine siete andati i supplementari, quindi è stata una partita che avete giocato alla fine più di 90 minuti, ecco ce l'avete fatta, sul piano del gioco avete cercato voi di fare un po' di più la partita, poi alla fine forse l'occasione più ghiotta l'hanno avuta loro con quel palo proprio quasi allo scadere del supplementare. Sì, diciamo ha ricalcato un po' l'andamento della partita di campionato, perché anche con meno occasioni però Fiorenzola ha avuto in campionato mezza occasione, ha fatto sul rigore, ha fatto gol, ieri su una punizione stava per rivincere, nonostante avesse fatto poco o nulla e noi avessimo fatto una grande mole di gioco. Fiorenzola è una squadra che non sembra però giocarci contro dà delle difficoltà e infatti anche ieri l'ha dimostrato perché anche se si è difesa qua abbastanza con ordine, quando ripartiva poteva dare fastidio, l'occasione si è stata su punizione. Poi Matteo fate un po' fatica, dovete forse prendere un po' più di confidenza con la porta perché abbiamo visto anche ieri le situazioni per fare gol le avete avute, però niente si fa un po' di fatica, no? Sì, è un periodo, ci sono periodi così come è successo, io ero qui l'anno scorso, è successo anche l'anno scorso, dei periodi che non riuscivamo, abbiamo fatto 4-5 partite 0-0 per dire quindi su un periodo e poi dopo magari vai a vincere, riporto sempre l'anno scorso, 3-0 in casa con l'Entella perché trovi i gol in modo, fai tre tiri e fai tre gol. Purtroppo il calcio è anche questo e dobbiamo essere bravi a concretizzare di più quando abbiamo la possibilità perché già diverse partite che arriviamo bene vicino all'area di rigore avversaria ma riusciamo a tirare poco in porta, riusciamo a impensierire poco il portiere avversario e dovevamo migliorare in questo perché per ora è il nostro difetto principale che vediamo in campo al momento. Giulio, è un bene per la Lucchese essere andati comunque avanti in Coppa Italia, adesso ci sarà l'Olbia, poi magari chissà, speriamo, magari ancora altre partite, anche perché questo alla fine poi consente, ieri c'è stato un turnover quasi totale sia nella Lucchese anche nella squadra di Luca Tabbiani nel Fiorenzola, quindi può servire anche da quel punto di vista lì, no? Abbiamo visto, raccontano le cronache, ad esempio una buona prova dello stesso Rizzo Pinna che magari negli ultimi tempi aveva trovato meno spazio. Sicuramente, soprattutto con questo calcio dove le rose sono abbastanza numerose, lo sai sono anche un favorevole ai cinque cambi, un fautore, un fautore e quando le rose sono così ampie, se c'è anche un'altra competizione, se c'è anche un'altra competizione dove magari chi gioca meno durante il campionato si può mettere in luce e magari addirittura puoi mettere anche in difficoltà l'allenatore con le scelte della domenica successiva, questo ben venga ovviamente e comunque sono sempre manifestazioni che, visto che soprattutto in Serie C non ci sono altre grosse possibilità per far giocare quelli che magari in quel momento stanno giocando meno, ben venga al passaggio del turno. Sicuramente, allora dal dischetto, tu Matteo non sei andato, no? No, la cosa curiosa, non so in quanti l'hanno notato, io proprio perché sto diventando vecchio sto attento a queste cose, siete andati a calciare rigori, intanto vediamo, questo è rigore parato se non sbaglio da Gallet, in ordine alfabetico, e non ci avevi fatto calciare, è partita Lagna, ha fatto gol, poi hanno fatto gol Bruzzaniti, Franco, Maddaloni e il glaciale Mastalli, penso che forse questo è l'ultimo, questo è l'ultimo che poi esulta di Mastalli, ricordiamo anche il gran gol con Rimini, lo so Pignolite mi guardavi così di sbiego, ma che c'entra? No, ma è così, Lagna, Bruzzaniti, Franco, Maddaloni e Mastalli in ordine alfabetico. Senti, ti volevo chiedere, poi cominceremo a leggere, comunque superare il primo turno di Coppa Italia è comunque una bella soddisfazione anche per tutti i tuoi compagni che finora hanno trovato meno spazio, ma forse sarà un campionato, tornando al campionato dove ci si diverte un po' di più e forse voglio esagerare, allargato ancora più squadra di quanto si potesse ipotizzare inizialmente, può essere, non lo so. Il campionato sta dicendo questo, perché c'è tante squadre in pochissimi punti, c'è anche delle sorprese, c'è delle squadre come noi che abbiamo l'obiettivo di fare meglio dell'anno scorso, sicuramente. Quindi l'anno scorso arrivaste ottavi, quindi? Eh, fare meglio, vediamo, ovviamente ogni anno... Tu l'hai detto, eh? Tu l'hai detto, ovviamente l'anno successivo... Ricordiamo dal capitano, dal vicecapitano di Coletta, Coletta è il capitano, tu sei il vice. No, dice il vicecapitano della Lucchiesa? No, ovviamente ogni anno diciamo andando avanti l'obiettivo è sempre fare meglio, bisogna migliorarsi in qualche modo, la posizione non la dico però bisogna migliorarsi. Anche per scaramanzia. Io ti faccio vedere una foto che adesso Matteo Capedini ci fa vedere, anche per sottolineare, sia perché ieri Nicola Nelli, il ragazzo con cui ti hai riscontrato, era presente al campo a vedere la partita, lo vediamo in compagnia dello storico massaggiatore della Lucchiesa Alvaro Vannucchi, uno che una settimana fa, penso Matteo Bacchini ce lo possa confermare, insieme ad altri, però che si era Alvaro particolarmente prodigato in quei minuti in cui il ragazzo del Fiorenzola era rimasto stesso. Lui si scontrò proprio con te, tu ora uno non ci fa caso perché si vede più poco, hai il residuo di quanti, due punti? Tre, tre punti. Tre, tre ora te ne sono rimasti due? Due, uno me l'hanno tolto. Eh, va bene. Eh, si è tolto da solo. Faccio pescherare, quelli che abbiamo detto mancano la Lucchiesa. Esatto. Vabbè. Niente, cosa succede? Poi dobbiamo andare in pubblicità fra un minuto. In quel momento uno va di testa, va a saltare, tu ci vai di testa, forse tu anche se sei un po' più alto lo prendi al naso, tra l'altro il ragazzo se l'è elevata, per fortuna se l'è scomposta del setto nasale, quindi diciamo che è andata bene. No, è stato uno scontro fortuito, all'inizio sembrava molto serio perché il ragazzo ha avuto delle convulsioni in campo, poi è intervenuto sia il baro che il dottore e dopo poco hanno tranquillizzato la situazione, non c'è stato pericoli troppo estremi. Tu avevi il taglio alla testa, quindi magari si andinavi anche perché qui è un punto. Però niente di grave. Hai avuto modo anche tu di prenderti paura per quello che vedevi? Eh sì, sicuramente, ma tutti presenti al campo, sia dentro che fuori, si sono preoccupati molto della situazione perché vedevamo un ragazzo che proprio... Poi abbiamo visto scene brutte in passato anche sul campo, in televisione abbiamo visto delle scene brutte, quindi la paura viene subito. Dopo ciò viene tra un po' di psicose. Sempre. Hai incontrato Anelli? Sì, sì, no, l'avevo scritto il giorno dopo, mi aveva subito detto che stava molto meglio, quindi... È stato un sollievo per tutti. Certo. Va bene, perfetto orario Opinion Leader, come vedi, diamo la linea a un Matteo Piatini, come l'hai visto? Tonico? Molto tonico. Clima Champions, sì? Sì, sì, sì. Va bene, dai, linea alla regia e poi torniamo, cominciamo a leggere anche i vostri messaggi, eh? Allora, prima di continuare, abbiamo proprio un minutino, io direi di vederlo, no Matteo? Del mister, del mister Maraia, dopo al termine della partita di Fiorenzuola, ringraziamo i colleghi di Fiorenzuola che ci hanno mandato questo breve contributo, poi subito dopo voglio sentire dall'Opinion Leader le ultimissime sulla vicenda stadio, se ci conferma, perché lui è sempre ben informato, al di là delle vicende tecniche, stasera sei in versione Rolling Stones, ma non ti coprire troppo, sei in versione, la linguaccia famosa di Rolling Stones, mi hai detto che Rolling Stones e Beatles con due generi diversi sono nella leggenda della musica pop e rock. Ho scoperto l'acqua calda. No, ho capito l'acqua calda, però... Hai ricordo di quando sono venuti qui qualche anno fa a Rolling Stones? Assolutamente. Tu c'eri? Certo, vorrei vedere. Concetti quelli seri non manco mai, manco ai concetti quelli, diciamo... Vabbè, però i concerti possono essere tutti seri. Sì, vabbè. Di fronte a Rolling Stones penso anche uno giovane come Matteo Bacchini, tanto di cappello, no? Se tu magari avrai altri gusti, non lo so. Sì, sì, sicuramente. Però a Rolling Stones penso, te ne avranno parlato i tuoi genitori, non lo so. Certo, certo. Quei gruppi lì, quei gruppi lì hanno fatto la storia della musica. Sono trasversali, dai. E dopo 50 anni c'è 50-60 mila persone a vederli. Quelli di oggi, fra 50 anni, loro stessi non si ricorderanno più neanche che mestiere facevano. Va bene, dai. Però vedi che svicoliamo ogni tanto, andiamo a parlare. È bisogno di svicolare. Allora, Ivan Maraia. In questi 120 minuti. Sì, sono stati un pochettino meno, però l'ho vista bene, l'ho vista bene in tutti i momenti. Nella prima parte, dove magari c'era un pochettino più di lucidità, ma anche nella seconda, con l'atteggiamento giusto, con il difetto che ci portiamo avanti già da qualche settimana, cioè quella di arrivare spesso vicini all'area di rigore, però non riusciamo a creare praticamente quasi mai pericolo all'avversario. Questo è un aspetto che ci sta un po' penalizzando, secondo me, perché la squadra fa tanto, crea le condizioni per essere pericolosa, ma poi non riesce mai ad esserlo. E questo è una cosa che mi infastidisce molto perché meriterebbe molto di più dal punto di vista delle conclusioni e in realtà non ci riusciamo. È un aspetto dove bisogna lavorare, bisogna assolutamente crescere velocemente. Però sono contento per i ragazzi perché dopo questo sforzo, dopo essere ritornati, almeno c'è il premio di questo passaggio di turno che comunque fa sempre piacere e che permetterà anche ai ragazzi che oggi hanno dimostrato di essere all'altezza di quelli dei propri compagni che hanno giocato domenica, di giocare altre partite e comunque di far capire al sottoscritto che ci sono giocatori che sono pronti per giocare anche la domenica. Il mister alla fine si è tornato sul discorso che facevamo prima, cioè anche lui dice sì, abbiamo creato diverse occasioni, diversi presupposti per lo meno per fare gol, non ci siamo riusciti. Interessante anche il discorso del coinvolgimento, perché voi in Rosa quando siete tutti disponibili siete se non sbaglio 25 giocatori, quindi è importante. Quest'anno tra l'altro tu in difesa hai una bella concorrenza, mi sembra di dire. Sì, sì, sì. È arrivato Tiritiello che sta facendo veramente grandi cose, ma poi ci sono ben assai merletti, insomma. Poi siete partiti a tre ora e giocate a quattro. No, per una squadra che vuole ambire comunque a fare un campionato importante, deve avere doppi ruoli in ogni settore del campo e ogni giocatore deve essere all'altezza, per esempio un giocatore che non gioca deve essere all'altezza del titolare, quindi quando ci sarà bisogno deve farci trovare pronto e il risultato deve essere lo stesso, come se giocasse un titolare. E mugugnare e fare polemiche non serve a nulla, anzi è controproducente, anche perché voi giocate domenica alle 14.30 a Recanati, città famosa anche per il? Opinion Leader. Per il Porto, Porto Recanati. Vabbè, poi a Vispesaro, come saprai, alle 18, ce l'abbiamo fatta alla fine, mercoledì prossimo, quindi anche giovedì prossimo racconteremo due trasferte nelle Marche, Recanati in provincia di Macerata, celebre anche per, che ha dato i Natali ad un certo Giacomo Leopardi, come l'Opinion Leader sapeva e fa il furbo. Sono anche stato a casa Leopardi a Recanati. No, no, perché ci saranno domenica Recanatese e Lucchese, mercoledì Vispesaro Lucchese, domenica 23 ottobre Lucchese, Aquila-Montevarchi, tra l'altro un'Aquila-Montevarchi che ultimamente si è travestita più che d'Aquila da lupo perché ha zannato un paio di prede, quindi in sette giorni da domenica a domenica tre partite, quindi Matteo si torna al discorso ampio turnover e c'è bisogno davvero di tutti. Allora, e poi dopo, dal 29 ottobre e dalle giornate soprattutto successive, dovrebbe entrare in vigore l'orario invernale, quello del calcio quest'anno. Cosa ne pensi? 12.30 e 14.30? Se questo aiuta le società, ben venga. Alla fine noi siamo giocatori e non ci fa differenza giocare alle 2.30 o alle 5.30, essere sincero. Io non vedo differenza. A mezzogiorno e mezzo forse forse un po' di differenze le trovo perché dovresti mangiare alle 9 la pasta o far corrispondere la colazione. Dovresti fare un brunch. In serie A lo fanno già da qualche anno, però insomma, gli tocca una volta ogni tanto. Però per me giocare alle 2.30 o alle 3 sono gli orari giusti. Però a Pesaro dimmi la verità, a Vispesaro meglio alle 18 che alle 21. Ah, sicuramente. Fare la nottata in fullman non era... La faremo comunque perché... Meglio farla nel proprio letto, no? La nottata. Opinione leader. Poi cominciamo a leggere i messaggi. Allora, vicenda stadio, progetto stadio, nuovo Porta Elisa. Il presidente Vichi l'altro giorno ci parlai e mi disse a fine ottobre avremo un primo incontro. Com'è la situazione? Mentre l'attento Matteo Pedini ci propone subito delle immagini. Io credo che sia quella che disse anche qui il presidente quando è venuto l'ospite in trasmissione. Quindi una situazione assolutamente, diciamo, in evoluzione. Credo, ma più che credo, sono strasicuro e straconvinto che con questa amministrazione comunale, dove lo ribadisco per l'ennesima volta all'interno, finalmente ci sono dei trifosi della Lucchese. Quindi non verrà snobbato come è passato il calcio e spero anche gli altri sport, come è giusto che sia. Però, ecco, diciamo, il calcio, che è lo sport, insomma, è un po' principe, no? Per tutti quanti. A Lucca ha bisogno assolutamente di un palcoscenico che sia non quel tetro palcoscenico che è ora al Porta Elisa, ma uno stadio, diciamo... Logorato dal tempo, purtroppo. Logorato dal tempo, ora poi siamo veramente... Questo vediamo, eh? Eh sì, questo... Beh, sarebbe un'altra cosa. Per ora lo vediamo soltanto in questa animazione, ma speriamo presto di vederlo dal vivo. Assolutamente. Quindi a questo punto credo che, appunto, con questa amministrazione comunale si riesca a fare lo step successivo, che è quello poi alla fine del progetto definitivo, del progetto, sì, definitivo. Poi ci sarà questa conferenza dei servizi chiamata Decisoria, dopodiché ci sarà il progetto esecutivo, che è l'ultimo passaggio, e su quello verrà fatto, appunto, questo bando europeo. Non ho ancora capito onestamente cosa significhi bando europeo. Letteralmente lo traduco come se tutte le imprese europee potessero partecipare al bando. Probabilmente sarà così, forse. Eh, probabilmente sarà così, comunque, penso e spero che non finisca all'impresa Pinco Pallino di Onurulu. No, speriamo di no, speriamo finisca, siamo in mani serie, dai, lo spiccio è quello lì. Credo che, appunto, siamo arrivati, diciamo, al momento giusto, con l'amministrazione comunale giusta, senza niente togliere. Quindi sei più fiducioso oggi, diciamo, che un anno fa. Sicuramente sì, perché, ripeto, senza voler far polemica, ma, insomma, le vecchie amministrazioni avevano dimostrato che, in più volte l'avano dimostrato, anche se poi hanno portato avanti anche loro il percorso, comunque avevano dimostrato che lo sport non era assolutamente tra le prerogative, appunto, di chi ha preceduto questa amministrazione comunale. Questa qui, ripeto, per l'ennesima volta, all'interno di questa amministrazione ci sono tanti tifosi della Lucchese che lo sono stati nel passato, nel presente, lo saranno anche nel futuro, e questo, secondo me, è un po' il calcio sui maccheroni. Matteo, insomma, l'avevi già vista, queste immagini? Cioè, un gioiellino. Eh, sì, eh? Eh, sì, sì, è uno stadio. Sarebbe bello, dai, anche per chi gioca nella Lucchese, poi... Eh, è un altro discorso rispetto a loro. È un altro andazzo, diciamo. Anche perché tifosi verrebbero, penso, più volentieri allo stadio rispetto a loro. Eh, credo proprio di sì, perché noi facciamo sempre l'esempio illuminante, ma per modo di dire, della partita in casa lo scorso anno, la prima, quella che fu... Non abbiamo ancora capito perché l'arbitro la fece iniziare. Quella quella che era adesso. Ragazzi, ma quel signore accanto a te era ingradinato quella sera lì. Ti puoi immaginare, al di là che... Vabbè, lui è a fisico, per cui... Però ti puoi immaginare, insomma, una persona normale... Stavamo male noi in campo, stavamo male noi in campo. Siete giovani, belli, hai tanti, no? Ti immagini, cioè... Ma, dico, 2022, quasi 2023, non si può più andare allo stadio in quelle condizioni lì. Non esiste, non esiste. Sai che cominciamo a leggere qualche messaggio, perché abbiamo in realtà solo un paio di minuti per la prossima pausa. Buonasera, sono Piero Dall'Ammari. È sempre lui il primo, Giulio. A fine stagione gli daremo il premio... Come si chiamavano? Te li ricordi quando andavamo a scuola tanti anni fa? Primigini? Eravamo i primigini? Primigini o Remigini? No, non mi ricordo. Quando si andava a scuola il primo ottobre, te lo ricordi? Primo ottobre, sì, sì, certo. Ma no, lui non se lo può ricordare. Ma io sì. Noi si andava a scuola, quando eravamo bimbi noi. Il primo ottobre cominciavano. Le scuole cominciavano il primo ottobre. Primo ottobre. Che è San Remigio? No. Vabbè. Allora, sono Piero Dall'Ammari. La prima cosa che volevo dire è che non ci possiamo permettere un terreno di gioco, parla del... Così ridicolo. Quindi è bene che qualcuno intervenga. Anche perché un campo così può condizionare il risultato e lui fa riferimento addirittura alla partita l'ultima in casa con la Torres. La seconda cosa, secondo me è felice di andare avanti in Coppa perché vincere fa sempre bene al gruppo, beh, questo Piero è indiscutibile, forza ragazze e sempre forza Lucca. Terreno di gioco. Migliora, sta migliorando oppure le condizioni sono tali per cui bisogna cercare di andare avanti così? Tu che ci giochi, voi che ci giochi. Sicuramente al momento non è dei migliori, però... Un po' complicato, diciamo, comunque. Senza cercare di andare nel campo, ovviamente. Assolutamente, no. Però, diciamo, a livello tecnico e a volte delle cose semplici le fa apparire difficili, come uno stop può essere complicato quando in un campo, diciamo, normale non lo sarebbe. Vabbè, speriamo che tu, opinion leader, ti è parso dalla gradinata che sia leggermente migliorato, condizioni stabili, no. Diciamo che in questo momento miglioramenti non se ne vedono e per fortuna, diciamo, l'autunno è stato molto blando e clemente a livello di pioggia, perché secondo me rischierebbe di diventare una risaia, perché mi sembra che sia molto molle anche come terreno, oltre che poco erboso, perché io quando poi a partita finita scendo vedo il terreno, diciamo, quasi a parità e si vedono le zolle ovunque, cioè si vedono migliaia di zolle, quindi questo mi fa pensare che il terreno sia anche soffice, oltre che troppo soffice, oltre che poco erboso, quindi la somma delle due cose, se dovesse piovere e magari, visto che siamo in autunno, può succedere, secondo me si rischierebbe veramente di vedere un pantanaio incredibile. Leggiamo quest'ultimo messaggio e poi andiamo in pubblicità, siamo Luiselle Cesare di Ponte a Moriano, salutaci Matteo Bacchini, è qui, siamo abbonati in gradinata, domenica non ci deve essere partita, forza Lucchesi adesso è sempre, vabbè, poi ne parliamo della partita di Recanati, la Recanatese, è un'altra di quelle squadre che, tra l'altro credo Giulio non ci siano precedenti proprio in assoluto. Non ci ricordi, io no. Eh no, no, ma la stessa cosa mi ha detto anche il nostro comune amico, non credo quindi che ci siano precedenti, quindi è una sfida inedita nella storia tra Lucchese e Recanatese. Linea alla regia, poi torniamo, siete anche stasera in tantissimi e vedo che ci sono parecchi messaggi proprio indirizzati al nostro cordiale ospite. Ancora in diretta dagli studi di Curvo Ovest con Matteo Bacchini e il nostro opinion leader Giulio Castagnoli, tra poco riprendiamo a leggere i vostri messaggi, prima però l'altro Matteo, Matteo Bedini dalla regia, si mi propone qualche immagine di allenamento, tanto oggi avete subito ripreso, no? No, però ad esempio tu che hai giocato tutta la partita immagino quelli che hanno giocato, di solito la regola è così, chi ha giocato il mercoledì magari fa un po' meno, quelli che non hanno giocato lavorano un po' di più, però avete già ripreso subito oggi. Sì, 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 anche perché la partita di domenica è vicina, quindi non c'è tempo da prendere. No, no, avete un bel tour de force tra l'altro. Sì, quest'anno abbiamo avuto però pochi giorni liberi, bene così perché giocare fa... preferisco giocare che allenarmi, quindi è meglio sempre fare le più partite possibile. Ecco, tu lo scorso anno eri diciamo titolare in Ammovib, hai giocato 34 partite, quest'anno appunto c'è il discorso che vi alternate un po' anche in difesa. No, sicuramente la concorrenza fa bene anche a livello di gruppo e stimola a migliorarsi anche in allenamento per far vedere comunque all'allenatore che siamo tutti presenti e che vogliamo giocare e poi è importante farsi trovare pronto in ogni momento che ci sarà bisogno durante le partite. So che la domanda è un po' come quella che ho fatto prima l'opinione sui Beatles e Rolling Stones, però ti trovi meglio a 2 o a 3? Cioè a difesa a 3 o a 4? A 4 perché nella mia carriera ho sempre fatto quasi sempre la difesa a 4. Centro e sinistra? No, sono destro quindi preferisco centro-destra, però ho giocato spesso centro-sinistra. Perché mi ricordo di averti visto giocare anche a sinistra. Sì, 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 assolutamente. Meglio nella difesa a 4 quindi? Sì, a 3, vi parlo a livello personale perché ci ho giocato molto meno rispetto a 4. Pignoli e poi moduli 3-4, 4-2-3-1, 4-3-3, lasciano alla fine il tempo che trovano perché se la squadra non ha equilibrio, se la squadra non ha anche certe caratteristiche, se i giocatori non hanno certe qualità, puoi inventarti tutto quello che ti pare. A quello sicuramente, l'unica cosa che dico io è che il modulo deve essere bravo l'allenatore a sceglierlo in base agli elementi che ha a disposizione. In Serie C specialmente è difficile che l'allenatore detti le condizioni e le regole per il mercato. Sicuramente è una cosa che non ha fatto Maraia perché Maraia è arrivato, diciamo, non credo che sia stato... È arrivata anche poi nel contesto di un'estate un po' particolare, una società sembrava venduta invece poi... Esatto, esatto. Quindi che succede? Che l'allenatore durante il ritiro, per come la vedo io, valuta gli elementi che c'è a disposizione e poi deve essere bravo mentalmente lui perché tanti allenatori sono ottusi e giocano con quel modulo lì anche se avessero giocatori inadatti, piuttosto cercano appunto di disnaturare anche il singolo pur di andare dritti verso l'obiettivo del modulo che si sono prefissati. Maraia mi sembra una persona intelligente perché ha già dimostrato che... Ha cambiato diversi moduli, partito 3-5-2, 4-2, 4-3-3... Sì, sì, ha capito che probabilmente questa squadra qui è meglio se gioca con un modulo diciamo diverso da quel 3-5-2 che lo ha sempre perpetrato in carriera. Quindi è stato bravo, è stato intelligente e ora chiaramente deve trovare sempre la quadratura del cerchio perché in questo momento nonostante qualche buona prestazione, qualche buon tempo direi, buona prestazione ancora secondo me... Non è critico, te lo dico già. Sì, sì, un po' di critica va fatta. Stasera mi ha detto sarò severo. No, che eccetera, però ecco diciamo ancora oggi non vedo un centrocampo. Io sono rimasto esterrefatto le dichiarazioni del mister della Torres domenica scorsa che ha detto, lo sapevamo che la Lucchese aveva un centrocampo dinamico. Secondo me la Lucchese domenica ha avuto un centrocampo talmente statico che ci siamo addormentati un po' tutti sulle gradinamiche. Che ha voluto fare degli elogi secondo te così l'allenatore? Ah, non so, ma ha trovato l'unica cosa che la vedeva anche un cieco che invece domenica la Lucchese ha avuto un centrocampo statico che non ha creato, non ha fatto gioco. So che il reparto che più ti ha convinto finora sia come individualità che complessivamente è la difesa. Assolutamente, la difesa... Sia nei due portieri che negli altri giocatori. Ma sì, perché poi lo dicono i numeri la Lucchese... Ora non perché stasera c'è un difensore. No, 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 ma lo dicono i numeri, quindi non è che anche lì ho scoperto niente di particolare, però i numeri dicono che la Lucchese ha subito su azione a difesa piazzata mi sembra un gol solo quello col Ponte d'Era, alla fine. E poi per un infortunio anche del portiere causato dal campo, diciamolo, ormai lo sappiamo tutti. E gli altri gol sono stati presi su rigore, un tiro da fuori aria su un'uscita un po' così a Reggio Emilia, e poi non ricordo gol presi su azione a difesa piazzata. Quindi significa che la Lucchese, quando si assesta in difesa, anche grazie magari forse, in questo caso, si fanno loro giocatori al campo. Al lavoro di tutti gli altri. Al lavoro di tutti gli altri. Però ecco, a difesa schierata la Lucchese è difficilmente battibile, perlomeno per queste sette partite. C'è da dire, l'ultima cosa, che la Lucchese in questo momento qui ha trovato le squadre, quelle che sulla carta, tranne la Leggiana alla prima, e un po' il Rimini, che è un po' una squadra, diciamo, che è venuta a fuori. Rimini non è male, però ha trovato qualche squadra, per me il Fiorenzuola è una squadra che è da retrocessione, poi ora è prima in classifica, ma questo è un po' di niente. Ha trovato tutte le squadre come Limolese, Pontedera, San Donato Tavednello, Domenica Stavola Recanatese, quindi diciamo, quelle squadre tipo Gubbio, Siena, Cesena, ci hanno sempre da venire. Quindi va misurata la forza della difesa quando si troverà di fronte, diciamo, attaccanti di livello un pochino più altino. Concludo, dopo non dico altro, secondo me questo campionato qui è due livelli più basso rispetto a quello della scorsa stagione. Mi sembra esagerato, però io la penso così. L'opinion leader è lui. La penso così, la penso così. No, ma dai, ora è stato esagerato. La penso così. Sicuramente non c'è la squadra nettamente più forte come c'era l'anno scorso. Ma quello può essere anche più bello il campionato, se c'è più equilibrio, no? No, no, sicuramente. L'anno scorso sapevamo, o Modena o Reggiana, non si scappava. Sì, c'è più, magari, piccole squadre, magari neopromosse, particolari, che sono al primo anno di Serie C rispetto all'anno scorso. Però ogni partita, partite facili in cima, nella mia carriera hanno fatto pochissime. Io guarda, questo messaggio lo farei leggere a lui, quasi gli lancerei il telefonino al volo, se lo prendesse, perché Nicola dice, ma perché Nicola? Ho visto la partita tra Siena e Cesena, il campionato è mediocre, ed è livellato verso il basso. La Lucchese, però aggiunge, quindi ora rimani con l'inquadratura su di me, perché non so Matteo, ma sicuramente l'altro ospite, l'altro personaggio che abbiamo questa sera potrebbe toccare Ferro e altri ammennicoli vari, dice Nicola, la Lucchese ha l'obbligo di provare a vincerlo. Nicola, io non lo so questo, stiamo, voliamo bassi, no? Come diceva quello, profilo basso, no? Profilo basso. Però, insomma, la squadra, però siete consapevoli che, insomma... Abbiamo, diciamo, in mano... Cioè, abbiamo delle buone qualità, quello sicuramente, dobbiamo... L'obiettivo, secondo me, è far meglio dell'anno scorso, e abbiamo tutte le carte regola per farlo, e la posizione lo dirà il campo, lo dirà il tempo, però dobbiamo assolutamente provare a fare meglio. Che clima si respira nello spogliatore? Tu che sei uno, insomma, uno dei leader, uno... No, il clima è buonissimo, fin dall'inizio c'è un clima sereno, ovviamente i risultati... Aiutano. Aiutano, ma anche i risultati negativi, l'abbiamo, perché ci sono stati, per esempio, la sconfitta di Fiorenzuola, il pareggio in caso colpo di terra, l'abbiamo superati con il lavoro, con serenità, col gruppo, perché si è creato già un buon ambiente, andiamo al campo volentieri, ci divertiamo insieme, e questo è fondamentale. Il gruppo dell'altro è quasi tutto nuovo, siete rimasti in pochissimi. Sì, 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 anche questo c'è da dire, perché di campionati ne ho visti un po', e le squadre a vincere ci mettono sempre due o tre anni. Ora parlo di squadre grosse, per esempio il Bari o anche il Modena ci ha messo tanti anni a vincere. Pensare di fare un campionato a vincere subito al primo anno con tutti i giocatori nuovi può succedere, perché tutto può succedere, però non è facile, ci vuole pregettualità in tutte le cose. Però già fare un campionato importante è un buon mattone, secondo me. Ma se è quello che sostenevamo, sosteneva anche Giulio, anche lo scorso anno, quando diceva tenetemi l'intelaiatura di quella squadra, qualche ritocco, come non detto. Ci sono state anche altre vicende, purtroppo, che esulano, secondo me, vanno al di là di quella che poteva essere la volontà veramente di tenere la squadra dello scorso anno con qualche ritocco e forse, chi lo sa, non ci sarà mai la controprova, magari quest'anno ci saremmo divertiti, ma perché no, ci dobbiamo divertire. Sicuramente. Bravo Matteo, dice questo nostro telespettatore, ti definisce un grande soldatino, sì, perché, insomma, fisicamente, quanto sei alto? A 1,88. Insomma, vabbè, sai che chi era alto come te, 1,88, all'epoca, sembrava sempre un gigante, te lo ricordi tu? Dipende chi. No, Giacinto, il povero Giacinto Facchini. Ah, sì, sì. Magari. Sì, ma vabbè, a parte questo, lui, all'epoca, perché l'altezza media, non dei calciatori, in generale, era più bassa, si parla di 50 anni fa, e anche più, lui veramente sembrava un gigante. Oggi, della tua statura che sì, ce ne sono, eh, ce ne sono parecchie, addirittura, i vari, non dico Romero, che va guardato così, ma anche Bianchimano, penso sia più alto di te. Tocca quasi due metri. Tiritello anche molto alto. Sì, sì, Tiritello all'incirca come me, però Romero e Bianchimano sono sopra la media di Gran Luga. Vabbè, lui ti definisce un grande soldatino rosso-nero, uno alla volta e uno per tutti e tutti per la Pantera, poi aggiunge, poi se posso una domanda all'opinion leader, qui opinion leader, lo so che non dobbiamo svicolare, però ti chiede questo nostro amico, ci hai parlato in questi giorni del fatto che non è carima, le maschere del Carnevale di Areggia a febbraio verranno anche sulle mura di Lucca, no? C'è questo gemellaggio, c'è sempre stata grande rivalità tra Lucca e di Areggia. Ti chiede sul possibile Carnevale di Viareggia a Lucca, Giulio, dimmi come ti vestiresti. No? Adesso, adesso lui ride, lui ride perché noi sappiamo che tu sei stato un paio d'anni fa alle sfilate del Carnevale, ora hanno deciso di portartelo, se il momento non va alla montagna, la montagna viene al momento, te lo portano qua e rispondi al nostro telespettatore. Allora, quel giornalista tutto il giorno nudo in casa, non mi resta. No, no, perché devi rispondere? Perché, scusa, è la verità, nudo con le mani in tasca. Metteresti in mostra la tua maschera da uomo nudo. Da uomo nudo, però la vedo solo io perché sto in casa e quindi va bene così. Va bene, leggiamo un altro messaggio di Paolone Damoriano, Forza Matteo ti dice portaci in Serie B. Mamma mia. Poi, in merito al video analista delle partite, si vede solo da fuori che alla Lucchese manca la conclusione, ovvero le giocate finali negli ultimi metri atte per fare gol, è un po' l'argomento della serata. Io penso che il mister Marai e i ragazzi ci lavoreranno e l'auspicio è che con il lavoro e l'impegno in tutte le cose si possa migliorare, no Matteo? Ci stiamo già lavorando. Perché secondo me dice Paolone bisogna lavorare un po' di più sulla finalizzazione e più che altro bisogna essere più cattivi sotto porta. Un saluto al grande ciclista Giulio, questo sei tu. Eh, almeno. Post-critum. Questa la leggo? Dai vabbè la leggo anche perché lo sanno che sono appassionato di quei film lì. Guido se ti metti il gel e i capelli tutti dietro sei da film mafioso. Vabbè, addirittura. Va bene, dai, va bene, va bene. No, diciamo che sono un cultore dei film di Robert De Niro, no Giulio? Conosci i film di Robert De Niro? Certo. Va bene, tu i capelli indietro? Con gel? Io con gel, tanto gel. Tanto gel. Va bene, diciamo che, diciamo che punzecchi continuamente il buon Bedini sulle luci, lo possiamo dire? No, E lì ti sta contentando perché vedo che anche stasera lo vogliamo acquadrare lo più. Sì, sì, sì. Ti ha fatto una luce magnifica. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta a levare quel faretto che mi faceva da aureola sulla testa, va benissimo. C'è ancora qualche riflessetto, però ce la possiamo fare. Eri sempre a dire mi luccico tutto, luccico tutto. Eh, insomma. Vabbè, ci sarà un motivo perché luccico tutto. Sicuramente, sicuramente. Va bene. Non è colpa del gelo. Te l'avano detto che siamo folli così, sì? Sì, sì, sì. Chi te l'aveva detto? No, ho rivisto la trasmissione. Noi ricordiamo sempre dei tuoi compagni che sono venuti l'anno scorso, li ricordiamo tutti con piacere anche quelli che non ci sono più, ma tra quelli che ci sono ancora erano le puntate che facevamo allo stadio. Te lo ricordi il buon Elia nonché Pisconti? Cosa fece tutta la sera? Risse tutta la sera. Si divertì? Io penso che... Tutti i giorni fa capire. È così di carattere. Sì, sì, sì. È un grande. Va bene, dai, lì nella regia e poi torniamo. 22.01 Caro Matteo Bacchini il tempo vola via abbiamo cominciato sembra l'altro giorno e invece guarda te come siamo già avanti. No, volevo parlare della scuola femminile e di questo ci parlerà l'opinion leader che aveva promesso che si sarebbe informato. Ho scoperto che possiamo dirlo che hai una parte di sangue Garfagnino. Sì. È vero o no? Tua mamma di dov'è? Gli nonni materni sono origini di Sillano. Di Sillano. Che mi dispiace perché Sillano insieme ad altre zone dell'Alta Garfagnana purtroppo per una vicenda che non dipende assolutamente dalla nostra volontà anzi noi tv negli anni proprio per il nostro territorio che conosci bene che ha una conformazione orografica particolare per cui certe volte avevamo posizionato dei ripetitori installato dei ripetitori per servire anche piccoli centri ma perché noi tenevamo e teniamo che tutti ci possano vedere ecco quella zona lì dell'Alta Garfagnana Sillano Piazza Alcerchio il comune di Minuciano da qualche mese non ci vedono quindi purtroppo anche stasera in quella zona lì non ci potranno vedere hanno avuto buon senso negli orari ad esempio a Pesaro mi auguro che col tempo insomma abbiano buon senso anche per altre cose allora Opinion Leader Calcio femminile Calcio femminile mi risulta che con due vittorie consecutive la Lucchese abbia diciamo un po' recuperato la falsa partenza è preparatissimo vediamo anche delle foto allora c'è stata la vittoria in 48 ore hanno fatto 6 punti che se non è un record allora hanno vinto 1-0 domenica con il Piano e poi sempre con la nostra amica Benedetta Fenili grande protagonista e ha già 4 gol in questo campionato e poi martedì hanno battuto e le foto credo che si riferiscono proprio alla partita di martedì hanno battuto per 4-1 il Fiamma Monza anche in questo caso doppietta di Benedetta Fenili è andata in gol anche l'altra nostra amica la Valentina Bengasi e poi c'è stato un altro gol delle Brianzole e ora domenica giocano in Lombardia nella zona di Milano quello che si chiama l'Interland milanese contro questo Vittuone che è al quarto posto in classifica però speriamo dai che per le ragazze di Toni Carruiezzo beh Toni è un po' strana la tua vicenda perché finora t'aveva sempre vinto la primavera e avevi perso con le ragazze ora hanno vinto le ragazze e invece si sta in questa sconfitta piuttosto secca 3-0 con la Carrarese e vabbè comunque salutiamo il buon Toni Carruiezzo che abbiamo celebrato la settimana scorsa con la sua una delle tante prudezze che ha fatto da centravanti la lucchese ne avrai sentito parlare quando fece 3 gol 3 gol alla Torres in una delle ultime stagioni che la Torres era venuta a Lucca ancora messaggi ieri ecco vorrei che magari ci puoi dire qualcosa anche Matteo ieri grande prestazione di un giovane il portiere Galletti cosa ne pensate Roberta e Luca da Lucca beh Galletti effettivamente che è un 2003 ha avuto il merito ha parato il rigore l'unico rigore che poi non è stato segnato ieri di quelli battuti come è andato? anche durante la partita ha fatto una buonissima parata su un tiro da fuori aria se l'è cavata alla grande per essere la prima partita è stato all'altezza anche lui può solo che migliorare quindi come portiere non siete messi male dai Jacopo ancora è infortunato vabbè insomma l'altro Cucchietti mi sembra uno che offre ampie garanzie questo ragazzino no certo avere portieri così forti in Sarecino è da tutti perché spesso le squadre fanno giocare portieri molto giovani e noi abbiamo due portieri di grande esperienza che ci dà una assoluta tranquillità poi portieri insomma voglio dire stasera non vogliamo fare lezioni a nessuno ma al di là del momento della parata ma poi anche come guida la difesa come vi sentite voi difensori da avere dietro che so Castagnoli o Casotti faccio due nomi a caso no? no sicuramente avere un portiere che dà sicurezza fa giocare con più tranquillità anche tutti i difensori e tutta la squadra direi perché anche se puoi commettere un piccolo errore sai che dietro qualcuno ti ci può mettere una pezza quindi noi siamo molto diciamo contenti di avere due portieri così forti per la Serie C allora questo messaggio ci dice Luca della gradinata agitata tra l'altro Giulio Domenica a proposito di gradinata c'era un po' di gente in più diciamo ora 1.400 spiccioli questo diciamo è un buon segnale comunque no? sì è un buon segnale ma sai Luca ormai si dice sempre che quando c'è qualcuno o più poi la Lucchese non vince mai e Domenica se viene una volta torna e fa 0-0 no no è una bella partita se è un tifoso però non si riesce mai non si riesce mai a convincere questi scettici capito perché se Domenica con qualche centinaio di spettatori in più allo stadio facevi una prestazione galliarda magari la vincevi questi fit te li ritrovavi ora invece io già venendo via Domenica sentivo già i soliti discorsi della gente che diceva era tre anni che non venivo ora sono altri tre anni senza venire quello discorso è un po' arandello ma purtroppo non si riesce mai a battere il ferro quando è caldo capito? va beh buonasera la Pantera sbatte sul muro Torres comunque continua la serie positiva Re Canati per vincere un caloroso saluto a Matteo uno dei muri qui parlava del muro della Torres ora dice uno dei muri della difesa rossonera gli volevo chiedere le sue sensazioni sulla squadra e sul campionato post-critum un grande applauso per i ragazzi dell'Ovest tutti uniti per la Pantera Luca della Gradinata città ragazzi dell'Ovest chiaramente li conosci bene nel senso che vi danno sempre un grandissimo apporto perché ieri erano a Fiorenzuola di pomeriggio ma in casa poi si sentono ancora ti chiede le sensazioni sulla squadra e sul campionato che penso puoi ripetere quello che hai detto Circo le sensazioni sono positive perché la squadra c'è il gruppo c'è dobbiamo finalizzare meglio quello non c'è dubbio però lavorandoci credo che arriveranno anche i risultati sotto quel punto di vista beh qui i caro Bignone l'idea insistono perché tu hai detto che sono usciti dicendo che torno fra tre anni allo stadio però in realtà ci sono molti messaggi come questo di Alessandro Dallucca che aggiunge e ripete Matteo in quadratura sul sottoscritto noi si vuole andare in serie B senza se senza ma questo campionato è mediocre ora il campionato che può essere anche mediocre ma Giulio ti dico qualcosa a te calma e gesso perché poi con delle squadre forti ci sono sarà anche mediocre ma queste prime partite al di là sono d'accordo con quello che diceva Matteo prima sembra che non ci siano quelle corazzate come l'anno scorso Modena e Reggiana sembra anche perché sia la Reggiana sia l'Entella sia il Cesena hanno già perso due partite e dopo cioè dopo sette partite aver già perso due partite non è sinonimo di essere una corazzata e quelle che sono in testa della classifica ha tolto il Fiorenzola che per me è un caso più unico che raro perché quando l'ho visto contro la Lucchese mi ha fatto veramente un'impressione di una squadra scarsa se casomai stasera ti stessero ascoltando faranno di tutto ma io per carità ma ci mancherebbe ma senza però sono lì Giulio sono lì sono lì c'è da dire che anche all'inizio campionato mi ricordo l'anno scorso il Modena perse col Montevarchi alla terza quarta giornata e poi fece 15 vittorie di fila quindi magari all'inizio le squadre ancora non sono in forma può d'arci diciamo di quelle che sono in testa la Leggiana è una squadra che tutti poi insomma l'anno scorso si ne parlava con Di Quincio l'altra sera quando era in trasmissione magari possono aver subito un contraccolpo psicologico per il fatto che l'anno scorso si sono visti sfilar il campionato sotto gli occhi nelle ultime partite però magari la Leggiana come squadra era attrezzata l'anno scorso e è attrezzata anche quest'anno però probabilmente loro pagano il fatto di non essere riusciti l'anno scorso a far l'impresa e poi ci sono squadre che hanno un po' di continuità diciamo che hanno dimostrato che però domenica ha perso il caso con Rimini e il Siena che però domenica non è andato al di là di un pareggio mi dicono anche abbastanza sciarbo però giocava contro il Cesena ma anche il Cesena ha già perso due partite diciamo che c'è molto equilibrio forse però come diceva giustamente Matteo prima secondo me l'equilibrio viene da tanto è verso il basso non è verso l'alto anche perché ci sono squadre tante squadre ne ho promosse e mi sembra che una sia anche la Re Canatese di domenica prossima dove sono un po' diciamo dei fattori sorpresi sono un po' delle sorprese possono essere dei fattori sorpresa però io credo che il campionato in tutta sincerità lo dico dopo sette domeniche sia veramente di livello scarso passatemi questo termine ma non riesco a non riesco ad aggettivare in altre mani la tua convinzione noi la rispettiamo non so se hai qualche simpatia per il calcio di Serie A però qui ti accostano sicuramente a un giocatore insomma che come difensore ha scritto pagine importanti negli ultimi anni buonasera a tutti a Matteo Bacchini il Chiellini rosso nero è un bel parabolo è ammirato Chiellini si ora vabbè andate a giocare la carriera ha parlato a sola quindi vorrei fargli una domanda visto che per noi è stato uno spaventoso pomeriggio quello vissuto alla tv per lo scontro con Nicola Nelli volevo che ci raccontasse quello che è successo cosa vi siete detti con i ragazzi del Fiorenzuolo eccetera Ionni Ionni quindi vabbè torna sul no c'è stata grande paura sia da parte loro che nostra infatti subito dopo che non ti vede l'elicottero nessuno voleva continuare a giocare non c'era più lo spirito c'è stato uno shock abbastanza importante quindi è stato giusto così Buonasera un caro saluto a Matteo te l'ho detto che c'erano tanti messaggi per te volevo chiedere a Matteo che rapporto ha con i tifosi e cosa gli danno i tifosi un saluto Samuele ed Elisabetta ma a cominciare lo scrivono doppia i mariti con le moglie o i fidanzati con le fidanzate caro opinion leader non c'è trippa per gatti mi sa qui allora cosa ti danno i tifosi e cosa hai che rapporto hai con i tifosi no è un bel rapporto sono tifosi che in C non si trovano ovunque c'ho il bellissimo ricordo di Gubbio dell'anno scorso ai playoff che entrammo nel riscaldamento eh sì però entrammo già nel riscaldamento e vedere tutta la curva ospiti piena è stato bello spero che riaccada con maggior frequenza anche quest'anno possiamo dirla in serie C una curva come la curva ovest ce ne è poche non ce l'hanno tante sì ci sono altre realtà però una curva così non ce l'hanno tante e anche una gradinata con l'opinion leader non ce l'hanno possiamo dire l'opinion leader eh diciamo che il settore il settore della gradinata è abbastanza spento purtroppo perché numericamente siamo pochi la curva invece riesce a essere sempre diciamo numericamente accettabile anche se si può fare anche meglio anche lì sicuramente però è chiaramente il momento è questo qui Luca per riportare un po' di persone allo stadio ci vogliono tanti risultati purtroppo dico perché vuol dire che non l'abbiamo fatto in passato quindi ci vuole che la lucchese si stagli perlomeno nelle prime tre posizioni di classifica magari in partite dove scontri diretti con continuità con continuità scontri diretti perché sperare di portare di portare la gente allo stadio poi con tutto quello che è successo anche negli ultimi anni con le televisioni che la fanno da padrone eccetera eccetera con risultati di metà classifica sarà sempre più difficile ciao un saluto da Ricci Daniele da Daniele Ricci da tutta la matraia rossonera forza Bacchini questo è un altro messaggio poi buonasera purtroppo temo che il rifacimento del Porta Elisa vada di pari passo con l'arena Garibaldi per cui senza prospettive certe temo per il resto due buoni 0 a 0 per entrambe le squadre che al comune è Massimo da Pisa la lucchese forse voi con un pizzico di rammarico in più e forse si riferisce alla clamorosa attraversa del signor Franco cordiali saluti Massimo da Pisa Massimo dobbiamo andare in pubblicità ti salutiamo sinceramente c'è grande stima da parte mia da parte dell'opinion leader nei tuoi confronti speriamo ardentemente che almeno per quanto riguarda lo stadio il nostro tu abbia torto al volo Massimo che è simpatico perché ci scrive sempre gli rispondo volentieri credo che siamo un po' più avanti noi in tutta sincerità almeno questo almeno questo sì linea della regia e poi torniamo eccoci tornati per l'ultimo spazio di questa sesta puntata stagionale di Curvo Ovest compagnia di Matteo Bacchini e del nostro opinion leader dovrei leggere questo messaggio di Antonio che è un po' lungo come messaggio lui però in pratica torna sul discorso Giulio delle condizioni del terreno di gioco del Port Elisa e insomma dice che bisognerebbe fare qualcosa in sostanza senza andare a cercare di chi è la colpa o di chi non è la colpa che a questo punto serve a poco aggiunge anche Antonio che questo problema va risolto presto e dice praticamente è impossibile giocare domenica la squadra lui dice ne ha risentito per non parlare delle figuracce con gli ospiti nel senso che poi vengono a giocare su questo campo sono d'accordo e poi domenica mi hanno detto chi da casa seguiva diretta gol serie C cosa su Sky danno anche quella opzione lì che i commentatori di Sky non hanno avuto pietà assolutamente non parlavano neanche della partita ma parlavano delle condizioni del terreno hanno usato anche dei termini abbastanza perentori dicendo non accettare non accettabile si potrebbe opinare su tante cose che non sono accettate no vabbè però insomma diciamo che sicuramente lo facciamo una bella figura però e poi insomma consideriamo che alla Lucchese ci sono già costati almeno due punti magari bisognerebbe fossero così severi anche in altre su altri giudizi sto parlando anche di colleghi ben più in alto del sottoscritto fossero più severi anche su altre cose però magari essere severi su altre cose non sempre è comodo magari invece essere severi noi siamo i primi siamo i primi che abbiamo detto che il terreno del Porta Elisa non è all'altezza purtroppo ne parliamo col presidente Vicky siamo stati i primi però da lì insomma poi a fare certe considerazioni vabbè allora aggiunge Antonio stavolta Camp Nou si è fatto un partitone probabilmente è tifoso credo dell'Inter buonasera sono Linda conosci Matteo Linda grande tifosa anche lei della gradinata Luca della gradinata agitata l'opinione leader che è il leader anche della gradinata Linda dov'è? lì sotto di te in gradinata? sì sì in basso centrale ieri dice una bella soddisfazione soprattutto per i ragazzi che giocano meno ma in allenamento si impegnano tanto una menzione particolare anche lei per Riccardo Galletti davvero bravo riguardo al campionato prendiamo come positivo il fatto che sono due partite che non prendiamo gol quindi clean sheet visto che come sempre in cima alla classifica ci sono le squadre con la miglior difesa un saluto a Matteo a cui chiedo come si trova con la no scherzo sei fidanzato sì 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 no no con la fidanzata con Tiritiello con cui se non sbaglio aveva già giocato nel tutto cuoio ma Linda sai tutto un saluto al grande Giulio molto molto tonico io non dico altro Linda vuoi non dire che non ti leggo messaggi l'ho letto dai dice come ti trovi con Tiritiello no beh lo conosco già da tanti anni è vero che giocavate insieme a tutto cuoio sì sì eravamo giovani di belle speranze ora siamo un po' più grandicelli però no un bel rapporto perché comunque ci conosciamo da tanti anni mi trovo benissimo un ragazzo alla mano fa gruppo che è importante quindi si è integrato benissimo siete tutti e due destre o sbaglio però potete giocare anche insieme mister Maraia volendo possono giocare no l'ho detto io possono giocare Tiritiello Pachini però vedo Tiritiello Benassai può fare ha tante soluzioni là dietro volendo e c'è fuori lo sfortunatissimo Pirola mi sembra un altro ragazzo speriamo sia Pirola che Jacopo possano rientrare poi al più presto mi dicono domenica si gioca macerata in campo neutro Daniele Mennucci ora chiediamo confermi opinion leader sì però la squadra è quella di Recanati dai no opinion leader sì però non hanno lo stadio diciamo omologato un po' come San Donato Tavarnelli bravo poi uno sticker che non so cosa vuol dire cioè so cosa vuol dire sticker ma ci mettono tutte queste faccine buonasera a tutti e forza Lucca una domanda e vabbè qui fanno un po' di confusione e Bacioni ma il Bacchini che giocava a Udine negli anni 80 è tuo parente? Jonathan Bacchini gli anni 90 gli dice degli anni 80 no gli 80 non c'entra nulla no non c'entra nulla poi un consiglio a Giulio se vabbè se fanno il carnevale sulle mura ma pare proprio di sì ma no che vengono carri quelli vabbè non possono venire sono troppo giganteschi verrebbero le mascherate se fanno il carnevale sulle mura travestito da pisano tanto ti bastano pochi ritocchi questa è simpatica dai questa è simpatica dai ok accetto accetto il consiglio noi accettiamo poi mandano una foto qui dove si vedono non lo so si vedono dei cavalieri sulle mura con dei cavalli non lo so forse questa storia del carnevale del carnevale a Lucca vabbè un pochino di discussioni le staff qualcuno a Viareggio se l'è anche presa no qualcuno a Viareggio se l'è presa ha detto ma non esiste il carnevale di Viareggio allora io capisco che tra Viareggio e Lucca c'è rivalità capisco che a Lucca qualcuno può dire a me del carnevale di Viareggio non me ne frega nulla capisco anche che qualcuno di Viareggio possa dire il carnevale è nostro e con Lucca non ci abbiamo a spartire nulla detto tutto questo aggiungo saremmo e mi rifaccio sempre al mitico non ci resta che piangere con il compianto Troisi e con Benigni quando lo dicevano 1492 quasi che volevano andare a fermare Cristoforo Colombo che voleva scoprire dico siamo nel 2022 quasi 2023 non aggiungo e ho detto tutto no? e ho detto tutto Pignoli da Pisano non so come ti puoi travestire no ma a parte il travestimento da Pisano che vabbè ma volevo dire che se loro vengono a Lucca col carnevale noi si va a Marina di Lucca d'estate al mare quindi siamo pari al limite era che sta Marina di Lucca però dai te la potevi rispondere no scusa ma no c'è Marina di Massa e va bene c'è Marina di Pietrasanta c'è Marina di Pisa c'è Marina di Pisa ma è Marina di Pisa c'è ma non c'è Marina di Lucca dai scusa ti sembra possibile ti sembra possibile che ogni città c'ha la sua Marina e qui non si può dire no diciamolo Marina di Lucca abbiamo quattro minuti che ci servono per inquadrare questa partita quindi di Macerata contro la Recanatese beh abbiamo detto la Recanatese ne ho promossa la Recanatese qui la Recanatese su la Recanatese su ma credo Matteo non sia il solito modo di dire che è una di quelle partite l'avete visto col Fiorenzuola che non bisogna assolutamente qui vediamo la Recanatese nella partita persa credo ad Imola per 2 a 1 se non sbaglio è il solito discorso no? guai ad andare così sicuramente non è un errore spero che commetterete quello no perché sappiamo che prendere la sottogamba potrebbe risultato sicuramente negativo è una neopromossa che conosciamo relativamente poco e dobbiamo farci trovare pronti perché per il campionato che vogliamo fare è una partita in cui bisogna fare risultato positivo bisogna andare per provare a vincere sicuramente non prendendo assolutamente sotto gamba la Recanatese che è una squadra che penso siano rimasti molto dell'anno scorso quindi sicuramente è un gruppo che si conosce bene e troveremo delle difficoltà non conosciamo il campo quindi assolutamente dobbiamo andare là concentrati con voglia di vincere ecco non come a Fiorenzuola bensì come a Montevarchi col San Donato ecco è quella l'interpretazione che va data sicuramente anche a Fiorenzuola sicuramente non abbiamo avuto l'atteggiamento sbagliato abbiamo avuto poca come esito comunque come esito sì come abbiamo sbagliato diciamo diverse occasioni in cui bisognava fare meglio davanti la porta il risultato è stato negativo questo sicuramente non deve accadere domenica macerata ecco bisogna cercare Matteo di aprire bene una settimana lunga Re Canatese e poi subito la trasferta di Pesaro del mercoledì e poi arriva il Monte Varti che anche quella sarà una partita tutt'altro sì una partita alla volta bisogna affrontare perché appunto è una settimana lunga anche Pesaro è un campo molto insidioso in cui tante squadre fanno fatica perché anche il Pesaro è una squadra affiatata il gruppo è da tanti anni che ha sempre gli stessi giocatori con qualche innesto e poi anche Montevarchi in casa sarà una partita difficile Montevarchi è stesso allenatore anche stesso gruppo dell'anno scorso abbiamo trovato abbiamo trovato difficoltà al ritorno facciamo fatica quindi partite partite facili come ho già detto ce ne sono poche tua opinion leader che insidie può nascondere questa trasferta di macerata con la Re Canatese l'insidia di andare a affrontare sulla carta la Lucchese diciamolo è più forte però non basta le partite poi vanno vinte le partite vanno aggredite e io per esempio domenica scorsa non ho visto una squadra che ha aggredito l'avversario per come intendo io cioè le partite vanno gli avversari vanno un attimino li va fatto capire che aria tira già negli spogliatoi e io domenica questa cosa qui non l'ho vista onestamente e quindi c'è il rischio di andare là a giocare contro la neopromossa magari con la mente diciamo così semplificata dal fatto che sono neopromossa e magari ritrovarsi appunto a doversi magari leccare delle ferite spero e penso e spero di no perché poi loro alla fine credo che non abbiano ancora vinto una partita quindi hanno tre punti sono ultimi con l'alessandra probabilmente sono una delle squadre chiaro che non vuol dire nulla questo anzi ma insomma sono una delle squadre più deboli vuol dire anche qualcosa è qualcosa vorrà dire la guarderà in televisione ma si si la guardo in televisione ah c'è un ultimo messaggio perché col discorso del carnevale stasera si sono scatenati Stefano che dice perché non fare un carro lucchese scrive l'L con maiuscola forse proprio che sfila Viareggio bisogna vedere se te lo fanno sfilare va bene siamo in chiusura magari sul carro ci vai in quel caso sali sul carro sul carro lucchese ci vai sai che in Italia è di moda salire sul carro dei vincitori Matteo è stato un grande piacere averti con noi per me è stato un grande piacere scoprire che insomma sei anche origini Garfagnine grazie a voi dell'invito c'è stata una stagione in cui ho visto hai fatto tre gol l'anno scorso ci si è andato vicino più di una volta lo aspettiamo che storicamente Curvo Ovest non dico altro ah ok a posto fermiamoci qua tu sei uno che sui calci d'angolo va sotto grazie grazie a voi grazie a te Opinion Leader ci ritroviamo giovedì prossimo sicuramente dovendo commentare due partite la Re Canatese e il famoso la famosa trasferta a Vispesaro ringraziamo anche Matteo Pedini per Curvo Ovest è davvero tutto seguite adesso Emozione Bike con le solite magnifiche escursioni della nostra ciclista il tutto commentato da Giulio Del Fiorentino con la regia di Avramo Rossi si parla ancora di sport e si parla di uno sport che a me e a Giulio Del Fiorentino sta particolarmente a cuore non so se anche a te Matteo che al ciclismo va bene grazie buonanotte a chi a chi Grazie a tutti.